Buongiorno a tutti, sono Eugenio Bonolis del presidio Giorgio Ambrosoli di Verbagna e con me Laura Vattovaz del presidio Ilari Arpi e Miriam Crovatim di Trieste. Siamo sul traghetto che ci riporterà a Villa San Giovanni che parte da Messina. È ripartita da Via Lemiglia la carovana per percorrere i 668 km che la separano da Milazzo. Il 26 luglio nella città siciliana è stata celebrata una messa in memoria di Rita Atre da Don Luigi Ciotti alla presenza di Pier Aiello, testimone giustizia e nuora di Rita. Dopo la notte in viaggio lungo la famigerata Salerno-Reggio Calabria i ragazzi, stanchi ma contenti, hanno attraversato lo stretto. Arrivati a Milazzo sono stati ospitati a Gigliopoli, un centro per bambini nato nel 2005. Le terre che un tempo appartenevano al Barone Lucifero furono donate al comune dalla figlia nel 1963 affinché fossero utilizzate per i bambini bisognosi. Solo nel 2003, con la nascita dell'associazione Il Giglio, partono le attività che oggi coinvolgono migliaia di bambini ogni anno. Nonostante le intimidazioni, gli attentati e i tentativi di cacciata, l'associazione insieme alla fondazione Barone Lucifero continua nel progetto di trasmettere ai bambini l'idea che la bellezza cambierà il mondo. Alle 16 si è svolto il primo forum sociale in memoria di Rita Atria, l'unica speranza è non arrendersi mai. I ragazzi della carovana di Libra si sono confrontati con diversi gruppi locali e associazioni della provincia, come Riccardo Rioles e dei Siciliani. Subito dopo, la carovana si è spostata verso la chiesa in cui si è celebrata la messa in memoria di Rita. Tra le tante persone intervenute, significativa è stata la presenza dei familiari delle vittime di mafia. Inizio Aloisi, Graziella Campagna, Attilio Manca, Rodolfo e Salvatore Buscemi, Anna Cambria, Mario Scuderi, che riposa ancora nei fondali di Punta Araisi, e Parmaliana. Forte l'esortazione di Don Ciotti durante l'ommelia a vivere la vita e impegnarci per chi libero non è, per costruire dignità e diritti. Il momento più emozionante è stato quando alcuni ragazzi della carovana hanno interrotto la cerimonia per consegnare a Pieragliello le 150 lettere scritte durante il raduno a Volvera e un sacchettino contenente della terra, la terra sotto il palazzo di Viale a Meglia. L'Ave Maria di Schubera, anche in questa occasione, ha concluso la cerimonia con una dedica particolare ai familiari che chiedono verità e giustizia. Una nuova tappa ci attende oggi, i terreni confiscati nella piana di Gioia Tauro. E mi raccomando, occhi aperti! Perché l'Unione fa la forza!